Va bene, allora dicevo grazie, grazie della vostra presenza a questa parte che è dedicata un pochino ad esplorare aspetti che sono più legati alla sperimentazione, alla lavagna, a esercizi, ma anche ad andare online e sfruttare le risorse che sono disponibili online e anche a vedere un po' di cosa viene prodotto al mondo. Vi farò menzione di un paio di software molto interessanti. Allora, vi ricordo siamo qui, abbiamo visto un po' di questi concetti, ripartiremo, prima di partire con le esplorazioni vere e proprie di software disponibili, ripartiremo con alcuni concetti e in particolare vi voglio far notare un po' di notazioni sui nodi. Partirò da una notazione classica che si chiama Alexander Briggs. In realtà la gente fa riferimento più all'uso che questa notazione ha trovato in un libro di grande successo pubblicato negli anni 70 da Dale Rolson, quindi la chiamano la tabulazione di Rolson. si interessò di nodi quando era molto molto giovane, diagrammandoli su un foglietto e cercando di scrivere anche qualche notazione vicino, poi abbandonò la cosa, diciamo dal punto di vista scientifico, ci tornò appunto con quella famosa formula del 33, già molto molto più in là, quindi è evidente che questo aspetto di topologia rimase sempre con lui, e introdusse una codifica, siamo sempre a livello di descrizione di un nodo rispetto a un altro nodo, quindi l'esigenza di distinguerli, come diciamo anche a parole, cioè semanticamente, che in matematica vuol dire cioè con una codifica in qualche modo sintetica. Poi passerò a questa codifica che è il Dauker Thistleweight, andiamo a molti anni dopo, cioè a tempi nostri, arriverò al richiamo brevemente, il polinomio di Jones, per farvi vedere come viene rappresentato nelle tavole, e poi una misura diciamo nuova, rope length, chiamiamolo a lunghezza corda, senza attributo, è difficile tradurlo perché è proprio un vocabolo che è stato inventato, ma vedrete di cosa si tratta, è una quantità non dimensionale, quindi potrebbe essere un buon indicatore topologico, e io ci ho lavorato un pochino, vi faccio vedere un piccolo risultato che abbiamo trovato molto di recente. Questo in qualche modo chiude, come dire, tutta la parte concettuale e ci porta a considerare molto brevemente questi due, diciamo, software disponibili, che sono, vedete, in realtà dei databases, cioè sono essenzialmente un archivio di informazioni, nient'altro. Quindi andate online in uno di questi database e avete tutte le informazioni che man mano la gente scopre e appunto vengono rese disponibili su internet. Questo è un lavoro straordinario che è stato fatto da Jablane Razdanovic, Razdanovic è stato studente di Jablan-Jablan, è stato anche qui a Pisa nel programma che ha organizzato, poi purtroppo ha avuto un malore mancato qualche anno fa, e Radmila Razdanovic è una giovane brillantissima matematica, adesso negli Stati Uniti, e insieme hanno prodotto questo programma che si chiama Linnot, e che quindi è un vero software per fare ricerca e sperimentazione matematica. Poi mi soffermerò su questo programma che è straordinario, che è Not Plot, di Rob Charine, e io ho una versione che l'autore mi ha fatto avere, è un programma che costa, si può comprare su internet, costa molto, poco, costa credo intorno ai 30 dollari, ma io avendolo sul mio computer vi faccio vedere cosa si può fare perché è straordinario, anche Rob Charine era qui a Pisa, è stato sviluppato in molti molti anni questo Not Plot. Va bene, allora faccio una piccola introduzione di richiamo a quello che abbiamo visto. Allora abbiamo visto che i nodi, allora intanto ci chiariamo l'idea, quanti sono i nodi? Sono infiniti, come i numeri. Sono infiniti, quindi dire tabulare un'infinità di elementi è semplicemente non ha senso. Si tabula ciò che si conosce gradualmente e in quel che si conosce gradualmente si cerca di vedere una ricorrenza, una struttura matematica. Allora voi vedete che a zero incroci c'è il non-nodo, il non-nodo è semplicemente un cerchio, un cerchio, badate che possiamo deformare, ricordate la topologia implica deformazioni continue della geometria, quindi possiamo deformare come vogliamo, può essere complicatissimo ma è pur sempre un cerchio. Ad esempio il DNA può formare delle strutture circolari che sono appunto chiamate catenani, catenani perché innanzitutto sono come anelli e possono eventualmente legarsi uno all'altro grazie a delle azioni enzimatiche, ma sostanzialmente sono circolari individualmente. E naturalmente nella circolarità ci ricordiamo, è vero che magari non c'è l'annodamento, ma ci può essere quella formula che vi ho citato la scorsa volta, cioè l'autolegame, il right, il twist, avvolgimento e contorsione, che fa superavvolgere anche una struttura che non è annodata. Quindi diciamo la topologia non la vediamo, come dire, dall'esterno, ma c'è della topologia, la topologia sta nel fatto che un bordo di questo nastrino è legato con l'altro bordo del nastrino, ecco perché nasce l'autolegame. A un incrocio non c'è nulla, a due incroci non c'è nulla, a tre incroci c'è un nodo, il ben noto nodo che usiamo per farci il nodo alle scarpe, se ancora lo facciamo, che si chiama nodo trifoglio, ma già, vi ricordate, possiamo vedere il nodo trifoglio destro e il nodo trifoglio sinistro. E non è lo stesso nodo, cioè non è possibile trasformare, mediante trasformazioni continue, deformazioni scusate, continue, un nodo destro in uno sinistro. Quindi in realtà già nel trifoglio vediamo la presenza di due possibili nodi, tipi di nodi. Nel quattro incroci c'è un solo nodo, tutto questo va bene fino a che siamo a sette incroci, a sette incroci ci sono sette nodi diversi, e a otto incroci c'è il periodo di depressione di Tate, perché pensa di capire tutto dei nodi, ma arriva a otto incroci, vedete, otto incroci sono già ventuno, e poi nove incroci dopo molti anni ha di nuovo un periodo di blu, perché a nove incroci sono 49 incroci e incomincia da un lato lo studio dei nodi a, diciamo, prendere un po' più di sostanza con contributi praticamente quasi solo inglesi e qualche americano, ma lui entra in una fase dove dice, va bene, se i nodi sono già, incominciano a essere dell'ordine del centinaio e io non vedo una struttura matematica, diciamo, piacevole da cui poter estrarre informazioni, lascio perdere. Vedete, la tabella dei nodi va avanti, a 16 incroci abbiamo circa 1.400.000 nodi diversi, che ovviamente, oramai siamo all'epoca dei computer, sono stati individuati, eccetera. Tutto questo per dirvi che la crescita è di tipo esponenziale, ci sono dei risultati matematici che ci, diciamo, rassicurano, non c'è proprio una prova, ovviamente, quindi si va un po' a induzione, che ci rassicurano sul fatto che la crescita del numero di tipi di nodi col numero di incroci è di tipo esponenziale. E questa è anche un'assunzione matematica per provare teoremi, eccetera. Allora, con tanti nodi così, devo ripartire da come vengono rappresentati. Vi ho detto che con Rydemaster si ha un po' una perdita delle informazioni fatte da Tate, e quindi la prima informazione a divulgare teoria dei nodi viene da Rydemaster, il quale presenta, appunto, non siamo sicuri se l'ha fatto apposto o no e se sapesse di Tate o meno, forse no, se non sapeva di Tate, bene, questa è la prima tabella che riproduce una catalogazione dei nodi. E come presenta questa tabella? Tra l'altro qui si legge appena appena appunto il riferimento ad Alexander e a Briggs. quindi si fa questo riferimento e questa tabella incomincia a diventare la tabella standard di presentazione dei nodi. E come vengono presentati questi nodi? Ma per complessità crescente. Ma fin qui non c'è nessun problema, c'è il nodo a tre incroci, il nodo a quattro incroci, già a cinque, c'è un 5.1 e un 5.2. E voi potete dire, magari ha messo il 5.2, 5.1 prima per ragioni estetiche, di simmetria, vedete, è molto regolare, il 5.1 è un famoso nodo toroidale, cioè viene costruito come una treccia, diciamo chiusa, su un toro matematico. Quindi forse ragioni di simmetria per cui ha messo questo prima di quello? Non lo so. Andiamo avanti e qui ci imbattiamo in tre nodi, tutti e tre a sei incroci, a cui lui dà il nome 6.1, 6.2, 6.3. Io vi invito subito. Vedete, tra l'altro qui non si vedono il sopra e il sotto. Siamo negli anni 30, mentre in Tate già si vedeva il sopra e il sotto e il ruolo dei segni, eccetera, eccetera. La tabulazione di Tate, antecedente di 30-40 anni, è di gran lunga più raffinata nell'individuare tutte le problematiche legate alla classificazione, e di gran lunga, diciamo così, più lungimirante di quanto fece Ridemaster. In ogni caso, non c'è nessuna ragione apparente per cui il 6.1 venga prima del 6.2. È come se noi avessimo tre fiori e decidiamo di farne vedere uno e poi l'altro e poi l'altro senza una particolare ragione. Un fiore vale l'altro, non è che io lo scelgo perché è più bello, più ricco o di vita più lunga, eccetera. E così va avanti, sui sette incroci si va avanti. Quindi Alexander Briggs suggeriscono questa notazione, incroci 5, 2 nodi, il 5.1 e il 5.2, incroci 6, il 6.1, 6.2, 6.3, incroci 7, 7 nodi, il 7.1, 7.2, 7.3. Questa tabella, che non ha una ragione particolare di essere costruita in questo modo, sopravvive fino al giorno d'oggi. Quindi abbiamo a un certo punto una tabella che noi ereditiamo, il cui ordine non è in realtà particolarmente giustificato. Vi voglio fare una brevissima menzione a una codifica che in questo corso non ho tempo di approfondire, ma che è utile almeno saperla, perché è facile. Non posso intrattenermi troppo su cose difficili, le cose facili almeno sì. Allora abbiamo visto che tutti i nodi ammettono una rappresentazione, cioè possono essere deformati e ammettono una rappresentazione in forma di treccia chiusa. Vi ricordate? L'ultima lezione. E la treccia chiusa cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo individuare un punto di simmetria attorno al quale si può costruire, si può deformare, diciamo così, lo stesso nodo. Chiamiamo questo stesso nodo, in questa configurazione qui, il nodo a treccia, o meglio la presentazione a treccia di quel nodo. Badate che questi diagrammi sono quelli relativi ai diagrammi minimali, cioè che ci fanno vedere il numero di incroci minimo del nodo, mentre non è sempre possibile, vi ricordate dell'esperimento che io feci, vi ho fatto vedere una slide in cui cercavo di ridurre a treccia un nodo di una certa complessità e ci si imbatte nel problema che sì, lo si può fare, cioè geometricamente si ottiene una treccia, ma il numero di incroci cresce, cioè non si riesce a presentare lo stesso nodo mantenendo il numero minimo di incroci. Ma l'indice che si valuta qui è il numero minimo di stringhe, così si chiamano, e questo l'abbiamo visto, è l'indice di treccia, Braid Index. Allora, naturalmente, con questa versione, vedete, qui c'è una parte in questo diagramma, io non li ho rappresentati su un toro matematico apposta, li ho rappresentati come una presentazione piana della treccia, proprio per farvi notare che c'è una parte di questa treccia che è quello che si dice in matematica triviale, cioè che non ha nessuna informazione. Allora è lo stesso, studiare le proprietà di questa treccia equivale a tagliare qui la treccia e, diciamo così, disfarci della geometria e guardare solo la sequenza di incroci. Questo è ciò che noi vediamo bene essere una treccia. Se voi andate indietro alla prima lezione, andate a vedere la slide in cui io introduco tentativi di notazione da parte di Kelvin, che studiava gli atomi vortici, voi vedete che c'è un'immagine di una treccia formata nella sua mente da eventuali tre filamenti di vortici che si intrecciano e c'è un tentativo di notazione a fianco a ogni incrocio sua. Bene, qui abbiamo queste trecce che corrispondono appunto a questi nodi e adesso molto brevemente vi faccio vedere come costruire un codice, una parola che identifica questa treccia. Allora gli diamo un orientamento e identifichiamo immediatamente, in base all'orientamento che diamo, un tratto positivo da un tratto negativo, cioè il sovrappasso dal sottopasso. Poi assegniamo delle lettere che da tempo, dagli anni 50, sono state chiamate sigma, le sigma 1 e sigma 2 sono sostanzialmente le stringhe, il numero di stringhe, ognuna identifica una stringa, e poi dobbiamo denotare il sottopasso e il sovrappasso. Allora andiamo al primo stadio, qui dove c'è il primo incrocio, e vediamo che sigma 1 passa sotto a sigma 2. Se passa sotto ha un esponente meno 1. Poi saliamo, io ho messo qui una freccia, perché nella notazione delle trecce ci sono motivi che possono far pensare alla treccia verso il basso, è una convenzione. Quindi state attenti quando notate queste cose se la freccia è verso il basso o verso l'alto. A me piace pensarla verso l'alto per tanti motivi. Adesso vi do un'idea un pochino bizzarra, ma molto piacevole dal punto di vista matematico. Immaginate che questa freccia sia il tempo e queste siano traiettorie di una foglia che magari turbina. Allora la freccia verso il basso sarebbe la gravità e le due foglie, la sigma 1 e la sigma 2, possono intrecciarsi in qualche modo, formare una composizione di quel tipo. e allora la freccia verso il basso sta anche a indicare che col tempo che passa queste foglie formano una treccia. Questo è un problema, ad esempio, molto interessante, quello di intrecciare traiettorie, ad esempio nell'industria del miscelamento, nel mixing. Io ho un colore bianco e un colore nero, sigma 1 e sigma 2 sono degli stecchetti che si muovono all'interno di una tanica, io ho questi due colori e io voglio miscelarli al meglio. Quello che si faceva fino a poco tempo fa era far girare i due stecchetti, sigma 1 e sigma 2, come facciamo con il mestolo quando giriamo, diciamo così, la minestra. In realtà si ottiene un miscelamento non ottimale. Si è visto che se gli stecchetti seguono quello che si chiama tecnicamente un protocollo topologico, non così sofisticato, ma che crei una treccia nel sistema dinamico, cioè nelle particelle che si muovono nel nostro fluido da colorare, da miscelare, questa efficienza cresce moltissimo. Questo è un lavoro fatto da un matematico americano che Philip Boyland e altri in Florida che ha trovato applicazioni nell'industria e ovviamente il mixing, diciamo, riceve questa informazione topologica, che il tempo di miscolamento per ottenere il dato prodotto è molto, molto più basso, quindi i costi di produzione sono molto più bassi. Va bene, andiamo in su all'altro stadio, siamo a questo stadio qui, e di nuovo, vedete, di nuovo, a questo stadio qui, un po' prima, dobbiamo vedere che cosa succede tra sigma 1 e sigma 2. ridefinisco questa prima parte di treccia come sigma 1 e quindi la parola è sigma 1, meno 1, sigma 1, meno 2. D'altro canto è molto regolare, quindi è abbastanza intuibile che la struttura della parola sia un codice in qualche modo che si ripete. Qui di nuovo è molto regolare la freccia, faccio di nuovo a ogni stadio questo gioco e in modo abbastanza ovvio otterrò un sigma 1 alla meno 1, sigma 1 alla meno 1, sigma 1 alla meno 1. Questa parola qui è un pochino più complessa perché io parto da un sigma 2 che passa sopra, quindi devo dare prima le mie etichette, il sigma 2 è il primo incrocio che io incontro, poi sarò qui e quindi ho un sigma 1 alla meno 1, poi sarò qui, probabilmente avrò un sigma 2, poi sarò qui e qui c'è un sigma 1 alla meno 1 di nuovo. Così si creano queste parole. Ora, una volta che si crea la parola, si ha un alfabeto fatto con il numero, le lettere sono il numero di stringhe e ovviamente queste parole hanno delle proprietà, hanno delle proprietà, delle strutture algebriche e matematiche che ti permettono da un lato dire che la topologia si conserva pur manipolando la parola, quindi scambiando un incrocio con l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è quanto volevo solo farvi notare su queste parole di treccia. Torniamo alla codifica. Allora, partiamo con la codifica più vecchia, quella di Gauss, di un'estrema semplicità. Noi abbiamo un diagramma, non è detto che sia minimale, quindi non è una codifica di tipo topologico, è una codifica che ci permette di fare certe operazioni, una prima codifica. Allora, va bene, lui dice sostanzialmente fissiamo un'origine, poi fissiamo un senso di orientamento e poi partendo da qui, ogni volta che noi troviamo un incrocio, lo segniamo con una lettera dell'alfabeto, seguendo un ordine alfabetico. E qui ho messo un numero, non solo una lettera, ma si può fare anche con i numeri. Io qui uso le lettere per una ragione banalissima, diciamo pedagogica, parlerò poi di un'altra codifica, lì userò i numeri, così ce li ricordiamo come distinte queste codifiche. Questa è talmente banale. Allora A, poi io continuo, trovo un altro incrocio, metto B, poi continuo, trovo un altro incrocio, metto C, e poi vado avanti, ritrovo A prima di chiudere. Devo fare un giro completo e tornare all'origine. Quindi se io li metto tutti in sequenza, seguendo un intero giro di questa curva chiusa, e ovviamente, stando attento, se io ho un sovrappasso, gli lascio un segno positivo, se io ho un sottopasso, aggiungerò un segno algebrico alla mia lettera, e ho questa sequenza. Quindi la prima sequenza è quella ovvia, A meno B, C meno A, B meno C, e arrivo all'origine di nuovo, e il codice di Gauss è esattamente questo. È un codice banale, molto semplice, si ripete, e uno allora si chiede, ma due parole, due codici uguali, mi indicano lo stesso nodo o no? Vi ho già detto che non è un invariante topologico, dipende anche dalla proiezione del nodo, quindi no. E allora la domanda è, ma che trasformazioni devo fare sulla parola per ridurre il nodo dato allo stesso nodo di riferimento, se fossero due nodi uguali? Dietro c'è il discorso delle mosse di Rydemaster legate a questa codifica. Questa codifica è molto banale, ma anche molto fragile, naturalmente è troppo lasca, diciamo così, e quindi anni e anni dopo è stata ripresa. E questa è una codifica molto usata, DT, da Daucher Thieselweight. La DT è una codifica un pochino più interessante, ci comunica già certe proprietà del nodo, e soprattutto ci permette di da una codifica ricavare un nodo. Quindi se noi abbiamo una sequenza di numeri a capocchia, vogliamo vedere se questa sequenza di numeri può rappresentare una curva chiusa e un tipo di nodo. Sapete, i matematici investigano molti aspetti, e qui ci sono aspetti un po' magari di teoria dei numeri e di geometria che si accavallano con la topologia. Allora, di nuovo, si fissa un'origine, si fissa un'orientamento, e a un certo punto si numerano gli incroci che man mano andiamo a incontrare. Allora, il primo incrocio è uno, poi andiamo avanti, e il secondo incrocio è due, il terzo incrocio è tre, poi io devo fare un giro completo, arrivo di nuovo qui, c'è di nuovo quell'incrocio, ma lo incontro adesso passandoci da sotto, quindi metterò il numero quattro, poi vado avanti e ci metto questo numero cinque, poi vado avanti, ci metto il numero sei, e finalmente torno all'origine. Quindi ogni incrocio è dettato da due etichette, d'intesa che va già intuitivamente, sappiamo che una delle due è ridondante, perché l'incrocio ci basta un'etichetta per individuarlo. E allora la tecnica, molto semplice anche in questo caso, qual è? Beh, innanzitutto, gli mettiamo dei segni positivi o negativi, a seconda se sono, in particolare negativo, se il numero pari è un passaggio che va sopra, abbiamo questa sequenza, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, questa sequenza, incominciamo a scrivere prima, nella riga più alta, la sequenza dispari. Allora, la sequenza dispari, partiamo da qua, abbiamo un uno, poi andiamo avanti, deve crescere, e incontriamo il tre, questo cinque no, perché deve essere ordinata questa sequenza. Quindi abbiamo il tre, poi andiamo avanti, e abbiamo il cinque. Quando abbiamo finito questa prima sequenza, dei numeri dispari, ad ogni incrocio individuato dai numeri dispari, mettiamo il numero pari corrispondente. Quindi all'incrocio uno, corrisponde il numero quattro, all'incrocio tre, che è il primo che troviamo in ordine crescente, dispari, l'incrocio sei, e alla fine, al cinque, gli mettiamo il due. E adesso cosa facciamo? Ci siamo. Adesso scegliamo la sequenza pari. Quindi il codice DT, cosiddetto, è semplicemente la sequenza dei numeri pari costruita in quel modo lì, che tra l'altro ci individua il numero minimo di incroci per un diagramma minimale, ovviamente. Va bene, facciamo un altro esempio, un pochino più complesso, in un nodo che è più semplice di quello che appare. Questo. Ovviamente qui c'è una mostra di Rade Master 1, che ci semplifica questo nodo, però supponiamo che quello sia il diagramma del nodo, vi ho detto, non necessariamente minimale. Allora prendiamo un punto di partenza, mettiamo l'orientamento, e incominciamo a numerare. Allora se andiamo lungo questo orientamento, abbiamo un primo incrocio, un secondo incrocio, un terzo incrocio, quarto, quinto, sesto, ecco che il paio di numeri nasce, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo. L'ultimo è il dodicesimo, partiamo con questa sequenza, e andiamo a vedere il numero dispari, la sequenza dei numeri dispari. L'uno, poi qui ci sarebbe un 5, ma dobbiamo andare in ordine crescente, quindi saltiamo questo 5. Uno, poi abbiamo il 3, abbiamo il 3, poi il 9 lo saltiamo perché c'è il 5, quindi uno, tre, cinque, scendiamo, e abbiamo il 7, eccetera, eccetera. Uno, tre, cinque, sette, nove, undici. fissata questa sequenza di numeri dispari, andiamo a vedere i loro compagni pari, quindi all'1 il compagno è il 6, al 3 il compagno è il 12, al 5 il compagno è il 2, e così via. E abbiamo già capito che il DT code, il codice DT, è la seconda sequenza. Questa è la seconda sequenza. molto semplice, questo codice lo troverete nelle tabulazioni, perché di nuovo è più potente del codice di Gauss, è legato al numero minimo di incroci, cioè voi avete una parola, è un po' come dire Roma e amor, no? Roma e amor sono la stessa cosa, semplicemente scambiando le lettere, o no. E poi Roma e amor, se fossero la stessa cosa, si possono ridurre ad AR o ARM, o abbiamo bisogno proprio di tutte le vocali, di tutte le consonanti. Magari le vocali sono ridondanti, chi lo sa. Quindi si è sviluppato interesse già in alcune direzioni diverse, non solo nella geometria o topologia, ma nella teoria dei numeri, nella sequenza dei numeri. C'è gente che ha incominciato a guardare se ci fosse qualcosa di geometrico o topologico nella sequenza dei numeri irrazionali, e così via. Si è prestato questo discorso a tanti aspetti. Allora, questo è semplicemente per voi, o per i vostri studenti, per esercitarsi. Il diagramma lo potete far vedere così, io gli ho già messo delle freccine, un punto di partenza, e poi semplicemente ottenere questo DT code. Questo è un nodo complesso, e ha i suoi numerini, e da questi si può estrarre questa sequenza, la sequenza vincente per far soldi. Ok? Questo è un modo semplicemente di esercitarsi. Qui non avete nessuna sequenza, e magari lo stimolo è prima individuare la sequenza, poi usare uno dei software che vi farò vedere per capire che nodo è questo e che nodo è questo. Magari è lo stesso nodo, chi lo sa. Ok. Va bene, abbiamo visto il polinomio di Jones. Il polinomio di Jones è un polinomio molto importante che ha permesso uno sviluppo enorme della teoria più recenti. è un polinomio che individua con una notevole potenza nodi diversi. Io ricordo quando incominciai a interessarmi un po' di queste cose che uno dei grandi matematici esperti di teoria dei nodi, Luke Hoffman, che ho già menzionato, a un certo punto mi ha detto sai Renzo, ci manca il non-nodo nella classificazione dei nodi. Il non-nodo non è classificato da nulla. ed io che avevo la mia mente su applicazioni per la fisica matematica non capì tanto bene. Ovviamente apprezzai l'enfasi che lui diede in questa frase ma per me dicevo vabbè, non nodo, non è interessante, ma per lui molto importante. E questo diede lo spirito a Kovanov e alle teorie omologiche di svilupparsi perché di nuovo ci incontravo un'altra volta e mi disse questa novità da telegiornale, mi disse guarda che Kovanov, sai la teoria di Kovanov è capace di identificare il non-nodo. Ok, apprezzai questo aspetto. Allora Jones diede un po' l'inizio a tutti questi polinomi. Ricordo i polinomi dei nodi sono invarianti dei nodi e appunto hanno la capacità di distinguere molti di questi nodi, identificarli in modo univoco. Questa è la rappresentazione della skin relation come la vedete nei libri. La scorsa volta vi avevo fatto vedere un incrocio rispetto a tutto il resto. Mentre adesso ho semplicemente portato al primo membro questa differenza tra incroci e qui mi dà modo, si vede meglio in questa forma algebrica il ruolo di questa variabile muta, tau, in questo caso qui. Vedete c'è un meno uno, tau, un mezzo, meno un mezzo. Quindi uno scambio di tau con tau alla meno uno sostanzialmente porta questa relazione di struttura ad essere ugualmente valida. Allora, vi ricordo che abbiamo costruito alcuni nodi, ad esempio il nodo trifoglio sinistro a partire dal non-nodo e poi dal legame di Hopf e qui abbiamo l'espressione. Poi abbiamo fatto l'esempio del nodo ad otto con quattro incroci che usando sempre questa decomposizione del nodo dell'incrocio positivo qua in un incrocio negativo qui e questo atto che si chiama questo meccanismo che si chiama di smoothing, di semplificazione dell'incrocio si riesce a costruire questo polinomio. Ok, quindi abbiamo questi polinomi. Vi ricordo c'era già il polinomio di Alexander. Poi Conway ha riscoperto Tate, ha riscoperto Alexander, siamo negli anni 70, ha introdotto lui stesso nuovi polinomi che non menzionerò e hanno dato origine a una notazione che si chiama notazione di Conway basata su quello che tecnicamente si chiama si chiama tradurlo perché in inglese è Tangle ma Tangle è praticamente una sfera immaginate una sfera, una pallina in cui entrano solo quattro un diciamo un filo e un altro filo ok e in questa pallina sostanzialmente ci sono quattro poli di riferimento i punti di intersezione di un filo con questa sfera e un altro filo con questa sfera quindi immaginate nord, sud, est, ovest e lì identificate un incrocio bene potete complicare o semplificare un incrocio alla volta lavorando all'interno di questa pallina e qui ci sono delle tecniche che ha sviluppato Conway non abbiamo tempo di menzionarle però voglio solo ritornare a questa tabella una volta che si hanno i polinomi si può di nuovo costruire questa tabella e come rappresentiamo questi polinomi di nuovo con una codifica però questa volta la codifica che noi abbiamo il 3-1 il 4-1 che abbiamo visto i due nodi a 5 incroci e così via i tre nodi a 6 e poi i 7 incroci eccetera ammettono una codifica che adesso è potente è potente noi che cosa mettiamo in questa codifica mettiamo l'esponente più basso del polinomio meno 4 e poi i coefficienti in questo caso c'è un meno 1 un più 1 poi qui c'è un un t alla meno 2 che manca quindi il coefficiente di t alla meno 2 è questo 0 qui e poi abbiamo il meno 1 da questa codifica noi possiamo ricostruire completamente il polinomio adesso però abbiamo che questa codifica è un invariante del nodo quindi queste codifiche ci dicono ci danno molte informazioni sulle caratteristiche topologiche e per ogni nodo noi abbiamo queste codifiche allora io voglio arrivare vedete siamo 1994 faccio riferimento a questo libro che poi vi lascio dare un'occhiata è un libro molto molto piacevole diciamo la migliore introduzione secondo molti alla teoria dei nodi alla teoria matematica dei nodi in un modo friendly in un modo molto molto semplice con equazioni elementari descritte verbalmente a lungo quindi è molto molto piacevole fatto da un esperto Colin Adams e Colin Adams cosa fa? alla fine viene richiamata la tabella la tabella dei nodi graficamente rappresentati con dei diagrammi secondo quanto già Ride Master faceva e in questa tabella abbiamo il primo non nodo e il trifoglio eccetera eccetera questi sono quelli a sei incroci questa tabella incomincia a essere un po' più completa allora ha questa descrizione 6.1 6.2 6.3 di nuovo quella è la notazione di Alexander Briggs poi gli mette vicino questo coefficiente questo coefficiente è la notazione di Conway che non ho tempo di raccontarvi è un numero capite ogni notazione cerca di individuare cose che altre notazioni non riuscivano a fare qui perché il 6.1 è prima del 6.2 non c'è una ragione ma forse la ragione c'è in un'altra quantità che è un invariante topologico ma una quantità che è lontana dalla diciamo da queste lezioni ma la devo pur menzionare il volume iperbolico però il volume iperbolico anche dal punto di vista senza sapere nulla di che cos'è capite qui è 4.4 qui è 5.6 2 abbiamo già pochi pochi nodi in poche unità già tutti ragrumati lì sembra un invariante difficile da distinguere la complessità quando questi nodi diventano davvero notevoli in complessità e quindi forse non è così soddisfacente e allora ci si può appellare a Jones ah bene Jones con la codifica che vi ho detto l'esponente più basso numericamente meno 4 e poi tutti i coefficienti che stanno davanti a questa variabile muta va bene queste sono le tabelle che voi avete andiamo avanti fino a nodi a quanto ma fino a 10 incroci nodi molto complessi fino a 10 incroci la tabulazione che noi abbiamo è la tabulazione sostanzialmente che noi ereditiamo dal tempo di Tate cioè non c'è nessuna ragione per cui che ne so il 915 preceda il 916 sono semplicemente nodi diversi punto e basta questo rimane se andiamo a oltre i 10 incroci la codifica cambia perché la gente oramai aveva capito che non era un buon motivo rappresentarli uno dietro l'altro solo in base alla come posso dire alla data di nascita venivano scoperti e quindi aggiunti e allora la codifica cambia un pochino si mette un K o una L per nodo o legame poi la seconda il numero che abbiamo è il numero minimo di incroci quindi evidentemente potrebbe essere un K11 se andiamo a 11 incroci A se il nodo è alternante o meno cioè se il soprapasso segue il sottopasso il soprapasso segue il sottopasso così oppure N non alternante e poi c'è un numero 1, 2, 3 quello che è che è il numero sequenziale in cui sono stati sono stati individuati quindi cambia un pochino la lettura ancora rimane un pochino misteriosa la loro presentazione va bene io se non è troppo presto suggerirei forse di fare un piccolo non lo so possiamo posso andare ancora avanti un pochino e poi facciamo un sì facciamo così perché voglio lasciare un po' più di tempo dopo al notplot allora questo vi faccio vedere sostanzialmente due risorse online vi ho detto queste risorse online sono sostanzialmente un archivio di informazioni ok quindi adesso se riesco a essere abile vado nella finestra che ho aperto questa è la pagina che voi avete alla fine avete tutti gli indirizzi web quindi semplicemente copia e incolla e arrivate a questa pagina questa è una pagina che è stata realizzata da ovviamente un grande esperto Barnathan e un collaboratore che adesso non riesco più a trovare forse è scritto proprio all'inizio da qualche parte Dor Barnathan e Scott qualcuno mi spiace non ricordo il nome comunque questa è la pagina vi ho detto che è un archivio ok quindi un archivio che ne so incominciamo andare a to do list questo è una sorta di pagina di Wikipedia quindi vi dà un aggiornamento sulle cose un po' che vi ho raccontato con ovviamente i riferimenti bibliografici eccetera andiamo indietro e vedete questa tabella di Rolfsen vi ho allertato prima questa classificazione che porta al nome tecnicamente Alexander Briggs è diventata molto famosa dal libro di Rolfsen quindi la tabella di Rolfsen se riesco a farvela vedere è questa qui allora abbiamo sempre i soliti i primi incroci sono abbastanza ovvi e poi si cresce incroci otto incroci nove incroci dieci incroci cioè siamo ancora alla tabella di Tate perché Tate arriva fino a nove incroci completi dieci incroci c'è un errore vi ricordate che è stato fatto diciamo così in modo non proprio tecnico cioè c'è una duplicazione di un nodo che è stata scoperta da Perco nel 1973-74 in questa in questa tabella che voi state vedendo e naturalmente questa tabella va oltre va oltre la tabella dei legami legami fino a sette incroci eccetera eccetera però siamo ancora con le informazioni da un lato grafiche dall'altro i codici che vi ho detto naturalmente una pagina particolare sono questi nodi toroidali che sono molto belli e che analiticamente possono essere descritti in modo facile alcuni di questi nodi sono molto piacevoli ad esempio nodi costruiti con coseni e seni i nodi toroidali la descrizione è in coseno e seno quindi è molto facile da dare assegnare o auto assegnarsi un problemino con gli studenti e vedere in tre dimensioni come costruire un nodo c'è un'altra famiglia di nodi probabilmente menzionata qua che si chiama nodi di Lissajou sono ancora più facili da raccontare non devo neanche andare alla lavagna i nodi di Lissajou sono parenti dei nodi toroidali le equazioni sono così x uguale a adesso lasciamo stare l'ampiezza coseno di un numero intero 3 per la variabile alfa più un angolo aggiuntivo se noi vogliamo metterglielo che può essere un numero reale mentre il 3 è un numero intero allora è coseno di n alfa più fi la fase quindi n numero intero e fi la fase numero reale qualsiasi realizziamo un nodo se x ha questa descrizione y coseno di stessa struttura e z coseno di stessa struttura quindi molto molto facili coseno di 3 alfa più 0 coseno di 2 alfa più 1 coseno di 4 alfa più 57 e abbiamo un nodo di lisajú sono nodi studiati appunto fin dal tempo di lisajú che di nuovo in modo rimarchevole credo neanche molto noto oserei dire io ho scoperto che Maxwell si era riderivato per conto suo c'è una bellissima immagine non pubblica un disegnino con i 3 4 colori io feci la scansione o comunque la fotocopia poi la scansione la feci vedere a Kaufman un anno e lui mi disse ma questo è un nodo di lisajú abbastanza complesso è anche interessante perché ovviamente c'è sapete benissimo la teoria dei nodi è da un lato la ricorsività di qualche fenomeno e dall'altro se ci sono strutture regolari come nei nodi toroidali la regolarità le simmetrie periodicità eccetera questa è una piccola classifica abbiamo un manuale disponibile questo è legato a matematica ma arriviamo anzi posso già citarlo subito è stato sviluppato da questi autori questo pacchetto che si chiama appunto teoria dei nodi non theory che è parte di matematica e che permette non solo di visualizzare ma di esplorare proprietà matematiche dei nodi poi avete una pagina appunto what's new eccetera eccetera con i riferimenti questo è un sito molto buono ho dimenticato di citare un sito oramai troppo tardi perché ha una codifica che non ricordo un sito parallelo cioè un database di risorse è stato costruito dai biologi dai biologi è un sito molto ricco magari se ricordo farò girare l'informazione per email ok questo è quanto per quanto riguarda NotAtlas quindi semplicemente un 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 database e questo è un altro un altro un altro un altro sito una collezione di informazioni forse ancora più ricco che è NotInfo e NotInfo voi vedete qui uno sceglie sceglie quello che vuole cercare il numero di incroci il nome la notazione di T la notazione di Gauss alcuni nodi che hanno una struttura particolare e che ammettono delle superfici che poi riempiono lo spazio si chiamano fibrati abbiamo naturalmente i nodi alternanti eccetera eccetera uno può scegliere e diciamo individuare l'indice di treccia il numero ovviamente di crossing eccetera eccetera ed è molto vedete poi si va alle superfici vi ho menzionato le superfici di Seifert altri invarianti che caratterizzano gli intrecci è molto ricco io i polinomi Jones Alexander Kaufman Conway Kovanov le omologie Honfley io l'ho chiamato Honfley PT perché in realtà sono poi stati altri due autori Priscischi e Traczik che hanno fatto la stessa scoperta e aspetti ancora più ancora più diciamo moderni se io scelgo il 3-6 il nome non lo so il Dauter Code il Dauter Code e nient'altro vado a Submit non so vediamo che cosa esce ecco mi sta dicendo i primi nodi che ho individuato dal 3 al 6 e mi da il rank del Dauter Code se io voglio avere il Jones il polinomio di Jones vado a cercarlo qui e di quei primi nodi io vado a Submit e mi genera il polinomio dei nodi questo è un programma che se non ricordo male adesso torno alle nozioni che vi volevo dire se non ricordo male permette in una sua subroutine di disegnare voi il diagramma che volete e chiedere quale nodo questo diagramma rappresenta perché vi ricordo che il nodo che voi disegnate può avere un mucchio di sopra e sotto che topologicamente non rendono complesso il nodo lo rendono complesso dal punto di vista geometrico io posso fare una curva che si chiude su se stessa come fosse una circonferenza ma fatta da un mucchio di ricciolini di 30 ricciolini in una direzione e nell'altra però in realtà è un non nodo allora è utile anche capire individuare la complessità questo lo dico perché sempre di più al giorno d'occi ci troviamo a disposizione computers che fanno simulazioni di eventi fisici la foglia che vortica voi ricordate benissimo la storiella ahimè è legata a un fatto molto drammatico cioè a questo disastro che è successo in Giappone non ricordo come si chiama adesso un'amnesia della centrale nucleare che ha prodotto anche una dispersione di materiale nel mare è stata ritrovata una palla da football col nome e cognome scritto di un ragazzino che ovviamente giocava da quelle parti in Giappone è stata ritrovata in Canada ed è stata riconsegnata alla famiglia ma questo dal punto di vista quello che noi chiamiamo dei sistemi dinamici cioè di come un tracciante come può essere una palla che galleggia sull'acqua venga portata così lontana da un evento ci fa le correnti ci fa capire che queste traiettorie possono essere molto complesse o magari molto semplici dipende quindi noi abbiamo delle traiettorie vogliamo individuare se queste traiettorie possono complicarsi nel senso dell'annodamento o no o sono semplicemente complesse ma geometricamente molto semplici questo ha a che vedere con la trasmissione la difficoltà di trasmettere l'informazione o meno o altri fenomeni di tipo diciamo energetico allora fatemi questa è appunto sostanzialmente la pagina di not info se io vado a scegliere voi capite che qualunque qualunque stavo pensando qualunque termine che io seleziono vediamo un po' andiamo a nodi molto complessi non alternante 12 incroci siamo da 1 a 200 nodi io voglio il polinomio di homfley di questo submit e in tempo vedete con che rapidità va a scegliermi queste informazioni quindi è uno strumento efficacissimo perché io posso partire adesso dal polinomio faccio un copia e incolla diciamo così del polinomio e io voglio vedere con lo stesso polinomio quanti nodi quindi la inabilità del polinomio a classificarmi i nodi perché ogni polinomio è capace di fare alcune cose e non altre se io uso Alexander siamo nel 930 e Alexander è molto debole quindi tanti legami non vengono non vengono riconosciuti e sempre questa storia del non nodo che non viene catturato da nessuno dei polinomi chiamiamoli classici ma con homfley pt ad esempio è un polinomio molto ricco incomincia a essere un polinomio di due variabili non solo di una qui le variabili le chiama v e z io le ho chiamate forse a e z insomma è un è un in confronto Jones quindi c'è anche un aspetto algebrico la gente ha incominciato a paragonare un polinomio con l'altro eccetera eccetera quindi questo è quello che volevo farvi vedere voglio tornare al non so neanche più dove sono quindi datemi un secondo di tempo forse ero qui ok questo è notasas questo è notinfo poi ce ne sono alcuni altri mi fermo tra pochissimo voglio solo terminare questa parte c'è un notfinder che vedete scusate un notscape che sono diciamo in qualche modo legati a notinfo e qui l'input è una notazione ad esempio questa sequenza di numeri e fino a 13 incroci stiamo parlando di centinaia e centinaia di nodi e l'output è il nome classico quindi uno inserisce questa sequenza di numeri e vuole scoprire se ad esempio numeri con una certa regolarità o quello che è e invece notscapecher è parte di appunto notinfo come vi dicevo che vi permette una volta voi disegnate semplicemente il nodo e vi esce il numero il codice dt e col codice dt andate al not finder cioè qui e inserite il dt e avete il nome classico insomma c'è modo di combinare questi software per arrivare ad avere la loro rappresentazione grafica il nome eccetera eccetera appunto Barnatan ha sviluppato questo software per matematica quindi è disponibile su matematica che si chiama not theory e all'interno può essere raggiunto anche all'interno del sito che vi ho già dato cioè il sito di NotAtlas l'input è una notazione qualsiasi e l'output può essere praticamente qualsiasi cosa si arriva fino alle tecniche omologiche moderne che hanno appunto il nome di Kovanov o di Egerflor eccetera eccetera NotScape è di nuovo uno di queste subroutine che voi avete l'input può essere anche una treccia vi ho già fatto notare l'importanza delle trecce ad esempio nell'industria ma in tanti settori io mi trovo adesso ogni tanto mi ricevo degli articoli dove queste trecce da valutare queste trecce vengono realizzate in incredibile ad esempio in metallurgia in metallurgia c'è modo intrecciando certe molecole di aumentare lo capite lo si fa con i capelli io purtroppo non sono molto competente ma chi può dirlo si intreccia i capelli e ottiene una struttura diciamo più stabile scusate sono proprio inesperto e quindi non posso non posso usare termini appropriati ma questa idea di stabilità è vecchia come il mondo no le corde e l'intrecciato dei 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 materiali è dovuto a quello cioè è un filo che semplicemente a forza di andare sopra e sotto ci crea il maglione ci crea quello che poi io invecchiando dicono ma metti ancora quella maglia lì e probabilmente tiene è fatta bene no e i cavi no i cavi delle corde i cavi delle teleferiche eccetera ci sono problemi molto interessanti perché a seconda dell'intrecciamento voi capite è ovvio che la corda è un manufatto compatto ma immaginate questo purtroppo questo disastro degli anni 70 la caduta di questa teleferica Cervigna Plato Rosà questo fu dovuto a un fortissimo sbalzo termico che allora tra l'altro l'ingegneria di questi cavi è molto sofisticata che allora colpì questa questa cabinovia e lo sbalzo termico poteva può essere ovviamente anche dell'ordine di 40 gradi da meno 20 a più 20 in una giornata particolare e ovviamente i metalli reagiscono alla variazione di temperatura quindi se la tecnologia non prevede nella costruzione nella progettazione la possibilità come avviene per i binari per i ponti per ogni materiale di sostenere questi scambi questi sbalzi termici ovviamente la struttura può collassare come è avvenuto in quel caso adesso per tutta la tecnologia che c'è stata ancora di più sembra che non si ritorne i ricorsi storici si pensava che tutta l'ingegneria fosse esaurita adesso vi ho menzionato il grafene tecnologia di materiali dell'ordine dell'atomo che se intrecciati in un certo modo senza come dire colla possono conferire una struttura resistente come è una maglia resistente agli sforzi eccetera eccetera quindi si può immaginare di intrecciare strutture spesse come l'atomo e che possano formare delle pellicole addirittura che possono portare energia o trasmettere energia come un circuito integrato e possono essere inserite sotto pelle quindi ci sono degli aspetti incredibili ci sono degli aspetti legati anche all'intrecciamento nei plasmi nei campi magnetici eccetera eccetera e questo cosa c'è di interessante c'è di interessante che si va a cambiare la struttura meccanica ad esempio quello che tecnicamente si chiama il modulo di Young per gli ingegneri cioè la resistenza di un materiale agli sforzi senza introdurre elementi chimici spuri ma semplicemente sfruttando proprietà topologiche siamo arrivati a Notscape l'output non solo partire dalle trecce eccetera ma trova il nodo disegna immagini molto belle che vi farà ridere ma è uno degli argomenti che ha stimolato tanta gente a interessarsi di software sì è facile farli a mano ma ci si mette molto tempo a disegnarli bene a mano non c'è nessun software che riesca e allora molti o meglio fino a qualche tempo fa e allora alcune persone si sono dedicate a questo cioè ad avere una bella rappresentazione regolare di quel che si fa e poi naturalmente calcolare i polinomi di Honfley Kaufman Jones eccetera rappresentare il nodo da punto di vista algebrico in termini di teoria dei gruppi e così via arrivo al lavoro di Radmila Santanovic e Slavik Jablan un progetto incredibile perché si voleva rendere in un software tutto lo scibile della teoria dei nodi io non mi soffermo perché è un software come dire del tipo matematica quindi bisogna averlo e poi dare degli input degli output è molto molto potente corredato da un un manuale che lo accompagna direi io mi fermo qui facciamo una pausa e poi siamo in grado di divertirci con qualcosa di interattivo vedrete che è uno zoo di immagini molto interessanti allora facciamo una pausa ci vediamo tra 5 minuti 10 minuti grazie faccio solo un brevissimo richiamo sul fatto che il pdf sarà disponibile se non da stasera da lunedì direttamente scaricabile dal sito che pubblicizza che pubblicizza questo evento quindi se volete è scritto lì quindi se volete prendervi nota io suggerirei da lunedì potete scaricare questo pdf che ovviamente è un po' pesante e racchiude tutto il materiale che abbiamo visto in un unico file ok c'è un aspetto che è legato con diciamo così gli aspetti di fisica più fisico che porta a considerare un nodo come se fosse una camera d'aria ad esempio il nodo trifoglio e noi gli soffiamo aria dentro e lo gonfiamo allora se noi abbiamo una camera d'aria come vi ho detto che fosse una ruota di bicicletta questa camera d'aria si gonfia e se ammettendo per semplicità che la sezione sia più o meno circolare cioè si deforma in modo come fosse un toro questo si gonfia si gonfia si gonfia finché a un certo punto diventa invece che il palloncino che vediamo che immagino si gonfi come una sfera perfetta si gonfia come un toro matematico fin tanto che può quanto può fin tanto che questa ostruzione dovuta al fatto che è un toro blocca una parte della sua superficie con un'altra cioè fin tanto che il diciamo così il foro di questo toro matematico di questa ciambella esiste poi a un certo punto questo foro scompare diventa un punto lì noi ci fermiamo ovviamente c'è chi pensa di andare anche avanti con qualche diciamo procedura matematica ma allora dovremmo ammettere che le superfici si intersecano una con l'altra cioè ci sono delle singolarità eccetera eccetera ma se noi immaginiamo che fisicamente questa inflazione proceda fin tanto che le superfici poi si toccano allora abbiamo che l'ostruzione cioè lo stop a questo rilassamento è dettato dalla complessità quindi se noi facciamo diciamo inflazionare un nodo trifoglio come se fosse una camera d'aria voi vedete che l'annodamento detta il diciamo lo stadio finale della configurazione ed è una configurazione come dire che immediatamente può interessare chi si occupa di geometria e non di topologia perché ma perché ci ricorda un po' questo discorso dei solidi platonici c'è una forma ammettendo che la sezione sia circolare eccetera eccetera c'è una forma ideale che forse possiamo associare a ogni tipo di nodo e anche di legame quindi c'è immediatamente una relazione che ci porta a considerare forme ideali cioè nodi ideali e nodi di partenza ammettendo che questo processo abbia questa sezione circolare eccetera eccetera naturalmente qui c'è c'è un altro problema che interessa molto i matematici puri e cioè il packing l'impacchettamento perché sappiamo che uno dei problemi molto belli della matematica diciamo così più pura è ad esempio come impacchettare al meglio dei cerchi perfettamente circolari nel piano ovviamente sono gli interstizi e gli interstizi voi lo sapete sono dei triangoli diciamo così curvi che hanno delle cuspidi e valutare la misura ottimale di impacchettamento implica misurare la parte diciamo di vuoto e la parte di vuoto ha a che fare con queste cuspidi che è un problema selvaggio molto difficile e noi sappiamo benissimo come impacchettano gli aranci cioè li mettono uno sull'altro cercando di minimizzare questi vuoti e questi vuoti sono diciamo forme tridimensionali di questi triangoli con cuspidi perché hanno queste cuspidi che adesso sono di tipo tridimensionale quindi ancora più complesso allora il problema è se noi ammettiamo una sezione circolare quanto vuoto c'è quanto al meglio possiamo inflazionare questa struttura quindi la gente i matematici più giovani moderni eccetera si sono innamorati di questo aspetto questo si chiama knot tightening cioè l'annodamento stretto di un nodo o di un legame ammettendo ad esempio che si inflazioni in questo modo qui c'è una misura che è stata introdotta di recente e che è una misura molto semplice almeno in prima battuta da descrivere e cioè io nella configurazione tight cioè nella configurazione diciamo più stretta possibile io faccio un rapporto tra la lunghezza minima e il raggio massimo ammettendo che la sezione sia circolare e rimanga tale quindi ho questo parametro lambda questo lambda è difficile da tradurre vedete un nome inventato rope length chiamiamolo lunghezza corda tanto per dargli un nome questa lunghezza corda è un numero puro perché è un rapporto tra lunghezze e un numero puro questo è interessante per i topologi si può fare qualcosa con questa lunghezza corda bene allora a me è venuto in mente e non l'ho fatto neanche proprio diciamo per l'aspetto di teoria dei nodi di investigare questo processo di knot tightening e il processo di knot tightening è seguito e sviluppato da software che appunto sono disponibili e sono liberi sono disponibili sul web il primo programma molto importante diciamo da questo punto di vista è stato sviluppato da questo fisico polacco Piotr Pieransky e lo avete come indirizzo web ma è stato come tutte le cose poi diciamo ristrutturato dalle fondamenta da un gruppo che adesso è molto cospicuo capeggiato diciamo così guidato da Jason Cantarella negli Stati Uniti questo programma è Ridge Runner e Ridge Runner è un programma molto molto sofisticato che ha a che vedere con gli aspetti diciamo anche non solo numerici computazionali ma di geometria discreta moderni perché capite queste curve ad esempio la sezione circolare il nodo che è una curva chiusa sono tutte strutture poligonali nel computer non c'è nulla di continuo è tutto costruito con segmentini con cellette e questo tubo che noi piace pensarlo perfetto in realtà è una superficie fatta a faccette costruita su poligoni e questi poligoni nel rilassarsi il nodo io uso già questa parola rilassamento perché implica un rilassamento energetico che è ciò che mi ha portato a studiare un pochino queste strutture nel rilassarsi cioè nell'inflazionarsi questo nodo deve aggiustarsi e minimizzare i vuoti vuol dire ottimizzare un certo processo anche numerico di una parte poligonale del tubo con un'altra parte poligonale del tubo quindi ci sono un discorso di analisi matematica cioè qual è il minimo di qualche cosa e questo minimo è locale o globale e poi c'è il contraltare numerico questo minimo è un minimo effettivo numerico o ci sono questi problemi di aggiustamento di una parte di tubo sull'altra che permettono delle ulteriori aggiustamenti ma su tempi di simulazione molto molto lunghi perché questa struttura a un certo punto incomincia a vibrare perché cerca una soluzione diciamo di aggiustamento geometrico di un poliedro con un altro poliedro ottimale ma questo su un nodo magari molto complesso implica tempi di simulazione lunghi eccetera questo ha dato adito a uno studio tutto suo di chiamiamolo geometria discreta molto interessante va bene allora la lunghezza che vi introduco è questa lunghezza corda e che si fa con la lunghezza corda ma io a un certo punto occupandomi un pochino di diciamo aspetti che hanno a che vedere con il rilassamento energetico di campi magnetici eccetera mi imbatto in questo aspetto di recente e considero un'energia magnetica adesso lasciamo stare perché diventa tecnico ma insomma che voi potete benissimo pensare come se fosse un'energia elastica cioè elastica cosa vuol dire beh immaginate che questo elastico come ho detto la prima la seconda lezione abbia lunghezza naturale nulla cioè che tenda sempre a schiacciarsi e come è la versione che invece noi usiamo con l'elastico di data lunghezza naturale noi lo manteniamo teso e immaginiamo che si rilassi costantemente fino a che scomparre per così dire però nel fare questo processo noi ammettiamo che il volume di materiale elastico sia diciamo così costante quindi è chiaro che se si accorcia mediamente la sua sezione trasversale si incicciotta perché il volume il prodotto della sezione per la lunghezza è una costante poi gli aggiungiamo magari un paio di altri costanti che ne so la quantità di flusso magnetico di altre cose invarianti e vediamo che cosa succede e è un modo per andare a investigare l'energia minima associata quindi se noi pensiamo in termini elastici possiamo pensare alla curvatura la curvatura associata a questo filamento e questo filamento che tende a chiudersi sempre di più e adesso immaginiamo che questo filamento con il volume che rimane costante quindi la sezione che si incicciotta questo filamento immaginiamo che sia annodato di varia forma bene io non ve la sto a far lunga ma insomma si fa un po' di analisi matematica e si arriva io mi scuso ma vedo ah sì c'è una doppia M ma è uno è l'indice è l'etichetta dell'asse diciamo si riesce ad arrivare un'espressione analitica di una certa energia magnetica che è non dimensionalizzata eccetera e si cerca lo spettro allora io sono andato a prendere i dati calcolati da questo software che dato il nodo lo fa incicciottare e mi dà tutte le coordinate del nuovo nodo del nodo tight del nodo nodo teso e cicciotto quali sono le coordinate? ma le coordinate sono la geometria esatta o per quello che può essere esatta dell'asse di questo tubo in configurazione rilassata cioè quando diciamo la simulazione porta allo stadio di chiamiamolo di minimo energetico possibile quando è massimamente incicciottato e poi la torsione dell'asse e poi altre altre informazioni sul nodo bene ho trovato questo spettro energetico e questo spettro energetico vedete qui è diviso per complessità e qui ad esempio abbiamo il numero tutti i nodi a dieci incroci e rimasi ovviamente un po' insoddisfatto mi aspettavo stiamo parlando di energia in questo caso magnetica ma anche elastica si dimostra di minimo possibile minimo energetico possibile quello che tecnicamente si chiama ground state energy siamo partiti dalla teoria delle stringhe vi ricordo vi ricordate ho fatto la battuta bene contemporaneamente ero stato informato che c'è un modello di stringa che insieme ai ricercatori sperimentali quindi del CERN si andava a vedere se gli stati fondamentali potessero essere in qualche modo catturati riprodotti eccetera da modelli annodati in particolare un gruppo molto attivo e questo gruppo mi fa sapere che insomma stavano lavorando sullo spettro energetico dei primi nodi ovviamente la natura non va a dieci incroci è troppo alto però l'aspetto non soddisfacente era che ad esempio qui abbiamo un nodo qui sono tabulati secondo quello che si chiama Rolfsen tabulation cioè la tabulazione che noi abbiamo da questo libro eccetera che appunto è ereditata da Alexander Briggs cioè il 6.1 il 6.2 il 6.3 esattamente come vengono rappresentati e io avevo chiesto una mia collaboratrice che adesso insegna professoressa all'università di Bergamo che aveva fatto il dottorato con me appena tornato in Italia io di tabulare secondo questa tabulazione che non ha nessuna ragione se non quella storica e secondo questa tabulazione troviamo dei nodi qui che hanno un'energia inferiore che hanno dieci incroci ma hanno un'energia inferiore quelli a nove incroci è un peccato i nodi a nove incroci con un'energia più alta dei nodi a dieci incroci che peccato ma questa roba qui è ricorrente questa caduta di energetica a un certo punto è venuta un'idea molto piacevole quella di dire ma se andiamo a livello di rilassamento energetico cioè di minimo energetico possibile vuoi vedere che i nodi vengono meglio rappresentati da lunghezza corda lunghezza corda magari di tabula in modo sequenziale rispetto appunto a questo stato inflazionato che è esattamente lo stato che veniva individuato analiticamente dallo studio dell'energia che avevo svolto bene usando i dati di Ridge Runner si trova questo andamento dello spettro guardate qui ci sono i 250 nodi non più tabulati su questa linea secondo la tabulazione che voi avete nei libri ma secondo rope length secondo questo parametro e rope length è calcolato da Ridge Runner quindi la parte in nera vedete non c'è una crescita perfettamente liscia sono nodi simulati uno per uno 250 nodi con un algoritmo numerico ci sono discussioni di come migliorare ulteriormente l'algoritmo stiamo parlando della sesta quinta cifra decimale di rope length però fa la differenza di questi saltini ma la cosa interessante è che a un certo punto ho detto a Francesca fai un linear fit e fai un best fit e il best fit esce con questa legge questa legge che è la curva rossa individua molto bene questo spettro di energia dai nodi a pochi incroci i nodi a crescere su con gli incroci ma attenzione adesso a differenza di prima vedete prima io avevo il 10 incroci che è qua che magari ha meno energia del 9 incroci che è là però il rope length questo nodo qui in accordo con secondo la catalogazione in base alla lunghezza corda viene prima ha più incroci ma cosa succede pensate ai nodi non alterni i nodi non alterni non accomodano in modo diciamo così ottimale per cosa ottimale intendiamo non lo so questo sopra e sotto questi passaggi ci può essere tutta una serie di sopra seguiti da un solo sotto e poi di nuovo un sopra e questo sopra e sotto magari è ottimale in realtà si scopre che è ottimale il sopra e il sotto è meglio che una sequenza di sopra e poi ogni tanto un sotto anche se intuitivamente io avrei scommesso il contrario perché una sequenza di sopra mi faceva intuire che il tubo era per una parte abbastanza abbastanza uniformemente dritto diciamo così e quindi la curvatura media fosse vicina a zero beh non sta così la cosa ma la cosa ancora più sorprendente che è il vero motivo di sorpresa è un'altra tabella è che questi sono i tight knots compiuti su base di dati Ridge Runner e questi sono i tight links i legami guardate questo logaritmo 4.5 logaritmo di più 4.5 logaritmo di più è semplicemente scalato un pochino verso l'alto verso il basso e la curva è praticamente identica stiamo parlando di 130 legami e 250 nodi cioè qui si incomincia a vedere non tanto appunto la differenza tra un nodo e l'altro che è un aspetto veramente forse troppo specifico ma se si parla di complessità in senso un po' più rilassato si incomincia a vedere uno spettro un andamento della complessità che è colto da delle leggi che per i matematici sono generiche diciamo così la genericità e l'origine di questa formula è un pochino misteriosa nel senso che è una formula empirica si trova analizzando i dati e io in questo lavoro ho cercato di dargli qualche sorta di spiegazione ma ha colpito moltissimo diciamo chi si occupa di teorie dei nodi perché uno spettro del genere questo non solo è ancora più sorprendente non solo questo è un risultato di un diciamo calcolo variazionale su un'energia magnetica ma si fa lo stesso calcolo sull'energia vera e propria elastica quella che piace ai matematici quella fatta da curvatura e torsione e nient'altro bene viene rappresentato lo stesso spettro quindi è molto molto interessante ed è motivo attuale di ricerca arriviamo finalmente a North Plot dico finalmente perché secondo me è un programma quasi di intrattenimento molto bello allora Rob Schrein è il suo ideatore Rob Schrein è un freelance quindi si mantiene servendo le necessità dell'università e dell'industria e per università e industria adesso sostanzialmente si parla di topologia in genomica in DNA e quindi soprattutto negli Stati Uniti ma adesso anche in Inghilterra stanno ricevendo moltissimi fondi e si vuole appunto studiare la complessità di questo DNA e l'azione degli enzimi ovviamente per le malattie di vario tipo anche il cancro quindi di origine genetica cosa che io ricordo di aver parlato con un premio Nobel in Cambridge quando ero ragazzo chiedendo a Darren Klug se ci fossero ragioni geometriche topologiche per vedere nel DNA l'origine del cancro lui mi disse beh Renzo questo vorrebbe dire che tu dai origine genetica al cancro io allora avevo 27 anni e ricordo poi di aver parlato con dei biologi un po' dopo ah ma questo è molto presuntuoso bene adesso è assodato ci sono certamente origini genetiche per alcuni tipi e l'azione che le topoisomerasi fanno sono ricordate di questo tipo la topoisomerasi 1 è facile da ricordare l'1 e il 2 l'1 c'è la doppia elica l'1 scambia un filamento della doppia elica con l'altro quindi inserisce o toglie twist quindi superavvolge come meccanismo di sequenza il DNA o lo svolge la topoisomerasi 2 scambia il sopra col sotto del DNA quindi agisce sui due filamenti diciamo così della catena nucleotidica scambiandoli tutte e due sopra tutte e due sotto quindi annoda e snoda il DNA va bene allora Rob Scherine ha lavorato molto con i biologi questa è la pagina di Notplot e questo è lui proprio in questo salone qui nel 2011 ci fu una conferenza molto grande di buon successo e in chiusura mi fece un applauso quindi individuato questo frame per far notare che lui stesso ha partecipato al programma allora questo programma è fantastico lui è partito da un sostanzialmente un dottorato per catalogare i nodi e il suo supervisore Dale Robson gli chiese una cosa banalissima che chiediamo ai noi stessi e agli studenti puoi fare un programma che disegni in modo bellissimo carino i nodi senza che noi dobbiamo sempre star lì o chiedere un aiuto da un tecnico o da un grafico eccetera allora cosa fa Notplot e poi lo vediamo allora Notplot innanzitutto è un database quindi conosce archivi e delle informazioni allora è un catalogo di nodi circa 384 tra nodi e legami nodi fino a 10 incroci e legami fino a 4 componenti e 9 incroci dà informazioni tipo geometrico e topologico su molte delle proprietà che abbiamo visto numero medio di incroci l'avvolgimento la lunghezza a corda il numero di legami di Gauss il numero di bridge di ponti il daughter code i polinomi fino all'on flip it poi è uno strumento di visualizzazione quindi visualizza sia curve poligonali che nodi ideali quei nodi ideali che vi ho appena fatto vedere erano stati realizzati con Notplot e individua le coordinate gli angoli di eulero modelli di nodo costruiti su reticoli poi costruisce nodi cioè voi partite da nodi elementari e potete costruire nodi complessi e ovviamente i primi sono i più semplici quelli fatti con i coseni i seni eccetera le catene quelle cose lì e poi nodi in tre anche in quattro dimensioni non chiedetemi cosa vuol dire quattro dimensioni le trasformazioni di nodi noti in nuovi nodi attraverso delle mutazioni cioè dei cambi di topologia fatti localmente mutazioni proprio perché c'è questo richiamo alla genetica ricordo che lui ci continua a lavorare quindi aggiorna il software ogni anno in base anche ai contesti su cui lavora e poi c'è della dinamica perché stimolato da tutti noi questi nodi possono essere soggetti ad esempio a caduta gravitazionale come se fossero delle corde che devono cadere ma qualcosa di più ci cadono le chiavi in terra ma proprio lì sotto c'è un tombino ci sono dei buchi le chiavi cadono e si infilano tra i buchi arca misera perdiamo le chiavi e da allora ci ricordiamo di stare attenti di quando tiriamo fuori qualcosa al cellulare se siamo su una gratta perché stiamo camminando con una gratta stiamo attenti ai buchi eccetera eccetera quindi lui ha ci sono delle grate dove i nodi possono essere possono cadere o no questa gratta può rappresentare la porosità la porosità di un tessuto ad esempio a ricevere a lasciare passare o no strutture annodate vi ricordo che ho accennato alle cellule che sono come dire rivestite da una pellicola che ha pori che permettono di comunicare informazione materiale eccetera con l'esterno ma sono gli stessi pori le porte d'ingresso di DNA aggressivi dei batteri virus eccetera questi se però sono annodati magari non ci entrano oppure se una volta sono dentro si annodano non riescono ad uscire quindi questi aspetti qui poi questo nodo può essere una corrente elettrica può essere un campo magnetico vogliamo vedere gli effetti di questa di questa diciamo configurazione sul mondo va bene questa è l'immagine che si ha lanciando il programma io l'ho già pronto per voi quindi vado immediatamente se riesco ad avere il programma eccolo qua si presenta così è un programma che costa pochissimo 30 dollari è in vendita tuttavia è stato libero fino a poco tempo fa ma insomma 30 dollari per chi vuole interessarsi di queste cose ne vale la pena allora voi andate su main vedete spero che riusciate a vedere c'è una finestra di lavoro è fatta da tre finestre questa grande grigia che vi evidenzierà le cose e poi c'è la solita finestra che io non riesco mai a capire tanto che è quella dei programmatori veri dove si inseriscono le informazioni dal punto di vista di input e invece questa finestra che ci parla e quindi su questa mi trovo meglio perché io vado su main ho cliccato main e anzi clicco main ed esce questa prima finestra la prima finestra mi dà ad esempio uno zoo dei nodi ok io vado su questo A e mi dà la tabella dei nodi ok e tra l'altro ci sono tutte vedete il 4 1 5 1 5 2 5 1 eccetera eccetera no 6 1 6 2 6 3 vado su B e va avanti con i nodi complessi su C e su D arrivano i primi legami qua sotto legami hanno i due colori perché hanno due componenti poi che ne so vado su E forse c'ero eccoli qua i legami più complessi su F arriviamo a dei legami come questo quest'ultimo poi ci sono i 5 componenti questo ha 4 componenti è molto interessante ce ne sono 3 e sono catalogati secondo quella codifica che vi ho detto oltre i 10 in croce o quello che era si segue io voglio studiare un nodo in particolare voglio almeno vedere com'è allora clicco su uno di questi e ho questa rappresentazione e naturalmente lo posso studiare in tutte le forme che voglio io voglio magari avere un raggio un po' più piccolo oppure voglio in modo come dire artificioso renderlo inflazionato in questo modo qua ovviamente è un modo artificiale perché non c'è una io sto solo ingrandendo questo tubo poligonale e ovviamente si creano dei problemi si creano dei problemi perché non rimane più smooth per quanto può essere smooth cioè liscio ma a un certo punto si vede la struttura dentro e si vede al punto che io posso toglierla la struttura scusate devo andare avvicinarmi per farvi vedere che il nodo in realtà è rappresentato da diciamo dei piccoli nodi è molto interessante questo doppio significato della parola che c'è in altre lingue il nodo ferroviario o il nodo come punto di incrocio di ad esempio traiettorie in italiano non c'è modo di distinguerlo e gli inglesi che hanno assorbito le parole sia dalla cultura latina che dalla cultura anglosassone hanno questa doppia parola e node è un nodo come punto di intersezione e not è un nodo come lo intendiamo nello spazio va bene allora io vedo qui questi nodi io posso aggiungergli scusate eccolo i segmentini del nodo e ovviamente posso ritornare alla parte smooth del nodo e naturalmente posso variare tutti questi parametri c'è un parametro che non si vede agire che è questo twist fix tv fix perché il nodo può ammettere al suo interno una struttura e ci può essere del twist e questo twist si deve chiudere in modo regolare sul nodo stesso va bene ci sono tanti parametri che io posso con cui io posso giocare ma c'è subito una sezione che mi interessa particolarmente Dina che vorrà dire dinamica immagino io posso scegliere un nodo semplice andiamo a scegliere il trifoglio che è molto semplice e poi vado alla sezione dinamica badate io non sono un grande esperto di questo software quindi scusatemi se non individuo gli aspetti che Rob potrebbe individuare più interessanti ma io c'è un pulsante go io vado su go e noto che il programma di default ha scelto che questo nodo sia in realtà carico elettricamente vedete qui è spuntata questa casella e poi che ci sia una sorta di azione meccanica io vado e vedo che non succede in realtà niente allora gli metterò la gravità gli metterò la gravità vediamo se un nodo elettrico che gravita e qui succede già qualcosa il programma vedete il nodo tende a cadere non è che si sta avvicinando cade proprio verso il basso perché è spinto dalla gravità naturalmente io lo blocco lo posso studiare eccetera posso caricarne un altro magari un pochino più complesso con meno simmetria e ritornare all'aspetto dinamico e questa volta gli tolgo magari la gravità e gli metto che ne so una forza meccanica che non è quella di Hooke ma è diversa quindi io posso studiare forze di vario tipo che hanno esponenti che o sono rispettosi della fisica o non lo sono per nulla quindi posso andare a investigare esplorare aspetti di tipo più matematico che magari mi interessano badate sappiamo in teoria classica dei campi abbiamo a che fare con delle funzioni che sono 1 su x che voi sapete l'integrale il logaritmo è una singolarità è una singolarità 1 su x o x meno x star qualcosa del genere questo x può andare a 0 può andare a 0 quindi ci sono delle singolarità che si formano allora io posso costruire un 1 su x magari x al quadrato oppure x più una quantità molto piccola e variare questo y tra 0 e 1 e vedere un po' come va questa funzione insomma può essere un modo per esplorare leggi che poi fisiche magari non lo sono perché hanno un esponente non so la legge di Coulomb ha un quadrato al denominatore ma io posso andare a variare questo quadrato e cosa del genere quindi io posso divertirmi a vedere che cosa succede se io qui ho un damped damped vuol dire smorzato vuol dire che gli effetti vengono smorzati c'è una sorta di attrito ma ovviamente essendo un programma questo è un programma numerico io posso avere un effetto anche non smorzato se l'effetto non è smorzato il programma incomincia ad ammettere delle inestabilità e queste inestabilità vedete incominciano a propagarsi e si auto eccitano e queste inestabilità le controllo le controllo dal software quindi posso averle di tipo fisico o no e vedete come il nodo a un certo punto si instabilizza e l'aspetto numerico è che se voi lo lasciate correre per un po' e andate a dormire potete trovare da un lato al mattino il nodo di partenza sempre con le sue instabilità oppure no oppure questo nodo diventa totalmente instabile bizzarro e quindi è una sorta di arriva a un limite dove il programma ti dice no guarda sta per scoppiare questo nodo perché queste onde vedete che si instaurano delle onde di propagazione e possiamo dargli vari nomi sono onde in alcuni casi ben note se le leggi che governano questo processo sono quelle fisiche nodi di torsione nodi onde di torsione onde di propagazione di tipo ellittico modale eccetera oppure onde numeriche cioè onde che non hanno una vera fisicità o relazione con la fisica va bene questo è già un programma molto interessante io direi di andare alle altre immagini allora sketch non vi sto a raccontare ma ovviamente vuol dire quello di vi consente di disegnare col puntatore individuare dei punti collegarli imporre sopra e sotto e vi costruisce il nodo e poi naturalmente il programma è in grado di cercare che nodo sia ma edit stessa cosa voi vedete che è il nodo di prima dove a un certo punto si vede l'asse di questo nodo che è una curva poligonale altro non può essere che poligonale e si vedono le oscillazioni eccetera è undamped cioè non è diciamo gli effetti dissipativi in qualche modo ci sono ma vengono calmierati e quindi qui ci sono degli effetti numerici di instabilità numerica o di altra ragione io posso andare naturalmente ad altre finestre dove voi vedete che avete il polinomio di Alexander l'onflippt il numero di legame se io clicco su onflippt probabilmente la finestra eccola qua mi fa vedere immediatamente l'espressione algebrica di questo nodo tutti i nodi tabellati ovviamente e se io voglio calcolare quello che qui si chiama rife di questa struttura mi dice che è meno uno è un po' un caso che sia esattamente meno uno vi dà un numero medio di avvolgimento del nodo nello spazio quindi una media su tutte le direzioni di vista in genere questo è un numero reale qualsiasi 07 015 quello che è un po' un caso l'ACN ci dà il numero di medio di incroci vedete che l'average crossing crossing number cioè il numero medio di incroci è 6.4 ed è esatto perché qui si richiama alla integrazione di una legge che è quella ben nota quella legata a Gauss del numero di legami sulla curva stessa quindi una doppia integrale della curva ma è mediato sulle instabilità è una cosa straordinaria cioè capite io con un click questo programma fa un conto che una volta ma una volta voglio dire 10-15 anni fa era oggetto di quasi di un dottorato per un giovane ragazzo ora naturalmente tante altre informazioni ma quello più straordinario di tutti secondo me è un paio di finestre che lui ha implementato perché tutti chiedevano informazioni su Notplot e allora lui ha fatto una finestra dedicata a delle dimostrazioni e questa è utile per me perché posso fare una carrellata delle varie possibilità che il programma offre allora io devo prendermi dunque qui abbiamo naturalmente tutte le variazioni di geometriche la rotazione e altre cose posso inserirgli lungo il nodo dei testi addirittura scritti eccetera eccetera ma incominciamo con i primi nodi ad esempio con questo qui beh questo qui è un nodo famoso perché voi capite che durante la storia dei nodi dei teori dei nodi ci si è imbattuti in classificazioni difficili e il programma qui find out cioè ci dice di capire che nodo è questo allora io clicco attenzione tutta la pagina delle demo sono demo quindi sono dimostrazioni settate a priori ma una volta che voi siete nel programma fate le stesse cose che fa il demo col nodo che più vi piace o il legame che più vi piace quindi io adesso non sto a richiamare un nodo e fare la stessa demo altrimenti è troppo lungo il discorso eccolo qua quindi il programma vi scioglie il nodo e vi fa vedere che il nodo equivale al trifoglio ecco qui un altro magari lo stesso perché sono presi a caso quindi probabilmente lo stesso ok questa è una cosa che noi possiamo fare poi c'è Nasty ah questo qui è un nodo che fu proposto adesso non so se storicamente sono davvero preciso io mi ricordo invece benissimo che una medaglia Philz Michael Friedman che ha lavorato sulla congettura di Poincaré eccetera aveva proposto io ero a Santa Barro in California nel 91 di studiare questo nodo qui e allora Shrine stava appunto immettendo questi meccanismi di rilassamento che permettevano senza giocare con le cordicelle o fare codici di polinomi eccetera vedere se si faceva o meno ecco è il non-nodo ora ripeto tutte queste dimostrazioni possono essere implementate su nodi che voi ad esempio inventate ok inventate il nodo lo fate rappresentare con un tubicino e poi applicate questa questa è la famosa questa è la famosa il famoso lavoro del 73 di Perco che individua nella tabella di Tate una duplicazione e quindi qui semplicemente viene fatto viene trasformato un nodo nell'altro e così ve lo potete fare su nodi a vostro piacimento c'è una collezione di nodi che sono nodi come gli anelli di Borromeo se voi eliminate una componente il nodo si disfa la componente in più nel caso degli anelli di Borromeo la terza una delle tre componenti è quella che tiene insieme il legame in modo che non si disfa questo è stato estesa questo studio di legami a legami che si chiamano da Brun si chiamano Brugnian i legami Brugniani di cui fa parte eccolo qui allora voi avete questa struttura complicatissima rilassata secondo certe leggi chiamiamole fisiche o meccaniche si mette dentro immaginate ad esempio che ci sia una corrente elettrica c'è una repulsione di un circuito rispetto a tutti gli altri va bene io vedete click to delete quindi io vado su una componente e il software rilassa la struttura la struttura non è più legata perché io tolgo una componente e come per gli anelli di libro Romeo si disfa quindi io vado su questa struttura qua ad esempio la clicco e mi fa vedere che in effetti vedete queste perturbazioni il software dà degli input di perturbazione in modo che è come noi faremmo con la corda quando la cerchiamo di svolgerla ecco c'è naturalmente trecce random che possono essere generate a caso e studiate poi c'è questa famosa formula del link io posso prendere il non nodo mettergli una struttura dentro e farlo rilassare in questo caso qui è semplicemente una colore individua magari un elemento del DNA e l'altro un filamento e l'altro l'altro filamento e le frecce sono naturalmente importanti e io se vado vedete qui c'è il legame il legame che cambia c'è meno 13 con un twist meno 12 un write meno 1 ma se voi stavate attenti a questa a questa formula vedevate che i numeri cambiavano man mano che si rilassa elasticamente adesso devo ritornare non ricordo più cosa ho fatto scusate ma ho ingrandito questa finestra e temo di sapere che devo uscire dal programma perché non ho ancora ah eccolo qua ok vi ho parlato dei nodi toroidali questo è il non nodo che può essere twistato più volte e poi posso essere anche posso anche deformarlo in modo che si chiuda i nodi di sagù sono ovviamente quelli molto studiati per la loro la loro semplice geometria se voglio studiare il numero medio di incroci c'è una relazione matematica con le superfici sferiche io posso studiare cambiare il numero di segmenti eccetera eccetera e semplicemente far avviare il software in modo da valutare al variare dell'informazione al variare di quello che io vedo il numero di incroci naturalmente ci sono curve che possono essere disegnate come nastrini e questo nastrino viene costruito mettendogli una curva parallela e si chiama blackboard framing perché la curva parallela io la disegno esattamente sul piano della lavagna non deve essere questo nastrino un nastrino reale può essere un nastrino magari virtuale la natura vuole che questo nastrino abbia un certo twist mentre questo è un po' costruito ad hoc poi ci sono magnetic questo può essere ad esempio una corrente elettrica io voglio visualizzare qui quello che viene implementato è Biosavar quindi la relazione tra campo elettrico e campo magnetico non so può essere il campo elettrico e io studio il campo magnetico indotto dalla corrente elettrica queste linee naturalmente sono aperte voi sapete il campo magnetico ha divergenza nulla quello che si dice non ha monopoli non finisce da nessuna parte qui finiscono da qualche parte perché è evidente che c'è un non si vede un cubo in cui questo è immerso e queste linee man mano che lui si svolge loro si svolgono naturalmente il DT code cioè quello che abbiamo visto di ogni nodo scelto io posso vedete il Gauss code il DT code poi abbiamo tutte le informazioni su frenè eccetera eccetera abbiamo nodi fatti a stecchi possiamo chiedere al programma di cucire un nodo o comunque cucire un filamento e scegliendo il tipo di nodo che noi vogliamo abbiamo una quantità pazzesca di cose ad esempio possiamo lanciare il programma come se lanciassimo delle monetine lanciamo il programma imponiamo il numero di stecchetti il numero di nodi e vediamo il numero di punti di collegamento e vediamo se si forma un nodo o no magari no e allora si forma questa roba qua poi io lo faccio rilassare ed ecco che viene implementato l'aspetto dinamico e nel rilassarsi adesso sarà particolarmente lento perché io ho messo questo undumped però si vede col tempo che passa il sostanzialmente il la topologia io se schiaccio ACN qui ho il numero di incroci medi eccetera eccetera ovviamente in questo caso qui mi da average crossing number 4.6 e l'avvolgimento nello spazio 0.9 della configurazione che ho visto ma mentre si svolgeva la configurazione questi numeri cambiavano ok io non solo posso impacchettare lo spazio con delle sfere posso impacchettarlo ad esempio con degli anelli lo posso impacchettare con dei trifogli vediamo se riesco a fermarlo e clear o stop io scelgo i trifogli eccoli qua o dei triangoli o dei quadrati e io posso impacchettare lo spazio in quel modo lì quindi ring pack mi farà gli anelli perché ho scelto gli anelli se io invece scelgo i trifogli probabilmente mi fa i trifogli o quello che è ok vediamo cos'altro c'è beh naturalmente ogni sorta di cavo quindi di intrecciamento di cavi naturalmente la gravità è uno dei problemi che ha interessato e interessa i biologi per vari motivi qui abbiamo una sorta di nodo che cerca di passare attraverso questo reticolo voi potete naturalmente dare la misura del reticolo a piacimento potete scegliere invece che un reticolo quadrato con dei cerchi e cose del genere simulando dei pori cambiando il tipo di nodo eccetera andando dalla parte dinamica mettergli una forza di gravità ma anche magari una forza elettrochimica che lo distorca o cose del genere potete fargli calcolare la probabilità che passi a un dato foro piuttosto che a un altro una cosa incredibile naturalmente per chi si occupa di sistemi dinamici questo si chiama trattore di Lorenz e si può investigare importando i dati da un sistema dinamico studiato ad esempio dai meteorologi vedere se questo sistema dinamico offre nodi o non nodi naturalmente c'è un sito che si chiama DNA questo è un sito so non credo di dire gran cosa davanti a dicendo che è un sito un pochino misterioso perché è una una parte di software su cui lui che lui utilizza per lavorare ma voi capite la complessità del programma voi avete le informazioni se io clicco sull'atinina ad esempio o sull'adenina voi avete adesso non ricordo più da che parte è ecco avete la finestra e la descrizione esatta della posizione della sequenza di tutte le adenine o di tutte le timine o di tutte le citosine che voi avete nell'acido naturalmente il tipo di nodo eccetera eccetera e poi gli mettete le vostre forze elettrochimiche di repulsione di quello che è naturalmente c'è anche un problema che interessa quanto una curva visita uno spazio ad esempio su un reticolo un reticolo cristallino ad esempio quanto una molecola può visitare spazi vuoti in un reticolo strutturato e se questa visita produce un annodamento o meno immaginate alla propagazione delle cricche questo è un tipico esempio sapete le ali degli aerei vengono forate e chiuse da ribattini diciamo così ogni volta che si fa un foro lì attorno al bordo del foro è l'origine di potenziale propagazione di cricche e questo è uno dei temi più studiati dell'ingegneria meccanica e beh la propagazione delle cricche avviene attraverso delle dislocazioni che si propagano in una struttura cristallina ma come mai possono propagarsi o vogliono propagarsi in una direzione piuttosto che un'altra ma magari perché la struttura cristallina ha delle impurità beh è normale allora come evidenziare questi percorsi magari come annodarli tra di loro questi percorsi per limitare i danni va bene queste sono alcune delle cose che fa naturalmente c'è la possibilità di andare a studiare cose ancora più 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 visivamente più interessanti e lui a un certo punto ha cominciato a interessarsi di tutta questa storia sull'arte celtica e quindi le rappresentazioni visive visive vedete voi potete immaginare che questo stia quasi in un piano oppure su una sfera se io vado spherical plate io ho in realtà un ricoprimento di una superficie sferica ho naturalmente la possibilità di studiare cose molto belle o complicate come questo qui io posso immaginare che questo reticolo è soggetto a forze e queste forze possono essere ancorate o no voi immaginate che questi pallini gialli siano magari ancorati a certi punti di attrattivi ad esempio una molecola o quello che è e allora io immagino di controllare queste forze qui avete questo schermo in cui ad esempio voi togliete le forze o le aggiungete le ancore ad esempio se io voglio che la gravità quindi che cada che cada io posso far partire la mia programmazione lui si muove in questo modo se io tolgo la gravità o aggiungo delle forze le posso togliere o aggiungere tra l'altro voi vedete che se io vado a variare la posizione questo reagisce come se fosse un elastico in qualche modo a seconda dell'on off che io metto a queste forze naturalmente io posso togliergli le ancore cioè questi punti rossi che lo legano come se fosse una molecola a un certo punto a un certo centro di attrazione se io tolgo le ancore e lo lascio cadere metto la gravità lui cade in una certa direzione sono le frecce queste frecce ognuna vi dà l'intensità con cui si muove si muove questa struttura diciamo così va bene siamo ai grafici siamo al lancio delle monetine e qui al posto di anelli io posso avere nodi eccetera eccetera voglio chiudere questa disamina di zodi di creature che lui ha fatto andando al demo B e il demo B vi farà sorridere perché capite che uno creativo è un po' anarchico è autonomo eccetera è facile che si faccia prendere da rappresentazioni grafiche che non hanno nessun interesse per i matematici qui andiamo un po' verso diciamo a rappresentazioni estetiche di complessità e non per nulla la sua ditta lui ha una ditta probabilmente è lui solo ipnagogic che si occupa di questo di questo software qui abbiamo onde andiamo un po' lontani dalla dalla teoria dei nodi però è un po' tutto basato su questo aspetto di annodamento mandalas naturalmente poi andiamo in 4D e poi ci sono delle ecco io direi di fermarci qua perché come appunto il professor Pegoraro suggerisce stiamo andando in una direzione come dire un po' meno matematica e torno solo rapidamente al corso nel dirvi che l'ultima slide riguarda un po' delle referenze bibliografiche allora ho citato alcuni libri e faccio una brevissima battuta il Enlementary Mathematical Introduction è questa qua Colin Adams potete dargli un'occhiata sfogliare le pagine per rendervi conto che è un libro scusate è un libro leggibilissimo e ha quella matematica sufficiente per capire le cose non va tanto oltre quello che vi ho raccontato qui in termini di difficoltà matematica ma è molto stimolante ed è scritto molto molto bene poi c'è un libro famoso per chi lo riesce a trovare nelle biblioteche io ne ho una copia non è proprio introvabile ma è raro che è l'Ashley è uno di quei libroni grandi così siamo all'inizio del novecemo è qui nel 944 ma il libro è stato fatto più o meno all'inizio del secolo in cui si facevano i compendi di tutto questo è un libro su tutti i possibili nodi che l'esperienza umana produce quindi sono nodi presi dalla marineria dalla montagna da chi fa tessuti e ogni sorta di informazione Ashley voleva dargli al nodo la messa quindi è discorsivo e molto molto visivo c'è la rappresentazione grafica quindi diciamo artistica ma artistica tecnica dei nodi ma ce n'è una quantità è un librone abbastanza spesso di formato anche un pochino grande è molto bello per chi vuole semplicemente avere un'idea di questa varietà di oggetti poi c'è un libro perché no tecnico questo sì è Kaufman Overall View of Modern Development ho scritto giusto per darvi un'idea delle relazioni con la fisica moderna con la fisica di Witten delle alte energie eccetera ma anche di biologia e infine Sosinski un bellissimo libro Alexei ha scritto un libro su nodi matematica con un twist che è un libretto un libro un po' più piccolo di questo che vi parla di temi più importanti della teoria dei nodi moderna ma in un modo discorsivo quindi vi parla di invarianti in modo discorsivo ma vi parla anche di nodi in alte energie la teoria di Witten delle stringhe in modo discorsivo ma rigoroso e infine chiudiamo con queste appunto risorse che vi ho accennato dove avete tutti i siti dove fosse invece la volontà tipologica è andata in un'altra direzione quindi quello non ha provato sono molti che possono sviluppare il terreno tutto quello che lei ha detto è perfettamente in sintonia con questo studio dei nodi cioè c'è tutto un contraltare di teorie dei grafi che cerca di individuare là dove ci siano delle connessioni tra la topologia e quello che abbiamo inteso per topologia e quello che un grafo può dire una battuta in teoria dei grafi c'è una formula che è quella di Eulero che lega il numero di facce con il numero di nodi con il numero di segmenti bene questa formula di Eulero si ripresenta in una nuova veste per quanto riguarda il grafo topologico quindi tridimensionale con i soprapassi e i sottopassi di un eventuale grafo proiettato sì assolutamente poi questo riferimento alle matrici anche giusto a un certo punto io ho volutamente bypassato ho superato un piccolo anzi non ho commentato c'era a un certo punto credo di aver visto la parola trace traccia questa traccia è proprio la traccia della matrice cioè la somma degli elementi da diagonale principale perché c'è una rappresentazione matriciale guardi facciamo una battuta se io ho a che fare con un legame fisico io avrò un legame magari di quattro componenti io mi immagino almeno sul tavolo non in forma matriciale ma poi in forma matriciale ci arriviamo in un secondo io sul tavolo scriverò ho quattro autolegami perché ogni filamento che compone il legame quattro elementi quattro componenti ognuno ha un autolegame con un numero di autolegame fatto da twist e writhe e poi c'è il numero di legame di gauss tra ogni coppia di elementi ecco che se io allora incomincio a pensare l'autolegame come self linking l'ho chiamato SL1 2 3 nella diagonale principale 4 ho detto 4 componenti 4 elementi della diagonale principale e poi ho il numero di legame di gauss LK 1 2 prima riga seconda colonna poi ho eccetera quindi io posso avere una matrice dei numeri di legami ma avendo un legame a più componenti ho una matrice del dauter code cioè ogni elemento della matrice in realtà è un vettore perché contiene il numero si ricorda che se questi legami fossero fatti tutti ad anelli il numero minimo di incroci è 0 diciamo così e il dauter code di ognuno è abbastanza banalmente uno scalare quindi posso avere delle strutture matriciali di varia forma sì in questi software si arriva soprattutto adesso io non sono un grande esperto credo la buona idea sia partire con NotAtlas e poi da lì andare a vedere dove mi parla di di matrici e poi da lì andare a individuare se in NotInfo trovo informazioni NotAtlas è proprio veramente una Wikipedia è proprio fatto da è una pagina di Wikipedia ormai quindi è semplicemente una descrizione di quello che si può dire essere diciamo lo scibile per così si può dire lo stato attuale delle conoscenze poi da lì però ci sono tutti i legami i links con dei sottotemi certo assolutamente le matrici sono parte di questo discorso e la teoria dei grafi anche c'entra con questo discorso sì ci sono altre domande ok abbiamo un pomeriggio molto lungo senza dubbio grazie a voi che siete stati qui